Grazie a tutti Noi questi vogliamo assaggiare Noi questi vogliamo assaggiare Sono Come si chiamano i? I chicosi I chicosi con dentro il ripieno di mandorle Ragazzi per non parlare di questo Che voglio dire il quadrotto con le mandorle No i chicosi Il quadrotto non ci piace Il pubblico vuole i chicosi Questi nasce nel 2001 Questo stabilimento lo costruiamo nel 2007 Come nasce? Nasce dalla follia Dal sogno folle di due ragazzi 22 anni Nel senso che avevamo Una gran voglia di fare qualcosa di nostro Facciamo qualcosa che Promuova in qualche modo I prodotti siciliani Da dove partiamo? Dal pistacchio di Bronte Considerate che nel 2001 Quando siamo partiti noi Le aziende che facevano prodotto il pistacchio Erano qui a Bronte due o tre Più che altro Più che aziende esistevano I classici bar che ancora esistono Che sponsorizzavano le cose al pistacchio Un ragionamento che mi fece Vincenzo Mi disse guarda Nino Qui a Bronte in questo momento C'è molto interesse Dai turisti che vengono nei bar A comprarsi i prodotti al pistacchio Da lì partiamo E partiamo come dei folli Nel senso che La sera Quando finivo Perché io lavoravo Nelle aziende di mio padre e miei zii La sera andavo dal famoso Peter Perché io Lo convincevo Senti ma fai così Stati fermo qua Fai così Fai così Ma che ne pensi Pistì Lo facciamo rosso Lo facciamo così Un lettering un po' più tondo Pistì Comunque era il nome che avevamo scelto Insieme a Vincenzo Perché comunque È veloce Se lo senti una volta Te lo ricordi Non scappa Diciamo Non è difficile Descrive perfettamente anche il prodotto Sì Descrive il prodotto Ma secondo me Descrive anche Se dici bici Comunque lo lega alla Sicilia Sì Come comincia tutto? Fai il logo e poi? Facciamo il logo Dopodiché io Mi faccio fare dei prodotti Dalle pasticcerie Quindi a Brolo E a Bronte Gli mettiamo sopra Questo lochetto E questa cosa Ok È presente Quei film di Totò Quando parte con la paligia Curariata di Gattone Ok Non era di cartone La paligia Ma era una paligia di plastica Normale E io mi mettevi i prodottini E incominciavo a Facevo base Milano E da lì col telefono E da lì col telefono E da lì col telefono dall'albergo Chiamavo i vari centri di distribuzione Alla GDO E mi davano appuntamento E mi davano appuntamento Stend immensi Stend immensi Nasce questa galleria Nasce questa galleria perché Perché volevamo far vedere L'onestà 360 gradi Dell'azienda Quindi L'aspetto produttivo Che non abbiamo nulla da nascondere Che comunque si lavora bene Che è sempre pulito Facendo prodotti alimentari È fondamentale Facendo prodotti food È fondamentale Lavorare in ambienti Sani Sulla certificazione di questo Di questo pistacchio È DOP È certificato È controllato Quello che le persone devono capire Quando compro un nostro prodotto Che è fatto in una pasticceria Un po' più grande Il concetto non è industriale Non si vedono macchine in linea Non si vedono Chissà quali impianti Ma si vedono Piccoli macchinari Che servono solamente A costantizzare la qualità Quindi a renderla costante Dopodiché La mano della mastra O del mastro pasticcere È fondamentale Complimenti Grazie Complimenti e grazie Grazie a voi